Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, sono sempre io e quindi Dirò la verità ragazzi, devo andare abbastanza di fretta Quindi, perché ho un po' di robe da fare Però tuttavia, penso di riuscire a poter caricare e registrare senza problemi un video Quindi, domani avrò recupero l'inglese Quindi, anche se forse non lo vedrete entro un po' di tempo Ragazzi, fatemi auguri, sono un po' occupato anche per questo E andiamo avanti ragazzi Ok, siamo arrivati proprio qua dove eravamo a... In questo caso qui ragazzi, come si chiama? Vabbè, ok, vedo già un'anomalia qui Andiamo a controllarla dopo Niente, 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 bebite Stavo premendo di tazzo, sbagliato, bene Una... sì, 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 robe per le latine, sì, sì, sì Poltrone, uh, un telefono Ok, un telefono pubblico Niente di importante Vediamo qua invece Ah, 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 ah La registrazione sta andando benino A posto, tutti happy happy, ok Un grande ossacchiotto di peluche Ok, quindi sta... La mascotte sta portando un cartello Benvenuti a... A... A questo... A questo negozio qua, è una specie di supermercato Io ero sicuro fossero un ospedale Un bellissimo posto per ogni cosa Da dove fare ogni cosa Dallo shopping, alla cena Guardarsi i film Perché abbiamo un cinema Ehm... Ehm... Divertitevi Ok, questo ossacchiotto mi fa sempre paura I miei... Quello che ho io è molto più carino Ok Up Ma che dia Una bambola Qualche bambino è davvero dimenticata qua Questo, questo mi ha spaventato Ehm... Ride quando le tocchi lo stomaco Hai trovato una bambola Bene, andiamo su dopo Eh no, è massa buia qua Aspetta un attimo Ah ok, non possiamo C'è una sera cinesca qui Non l'ho capito Non possiamo entrarci Qualcosa ci blocca la strada Un cestino Un cestino Bene Ehm... Drink machine Drink machine Un menu Vediamo che c'è Ehm... Un attimo non ho letto che cos'è È bloccata ma Ah, la porta per emergenza Quindi Qui controllo solo presfizio Un elevato Uno è l'elevatore Se esce il sole Ok, i bottoni non fanno niente Quindi andiamo su Ah ok, bene Bene Ok, non si può entrare Non si può entrare Uh, un po' di armi Niente Niente anche di qua Ecco, vedete Ci sono queste robe qui Solo che I laterali sono brutti A vedere se non si capisce Ok Bene Bene, qui vedo tutto chiuso Ah no Di essere Aspettate un attimo ragazzi Che Ehm... Essere paranoici In certi giochi È una roba buona E giusta Quindi Ehm... Nah, di tino veloce Ok, stanza per l'emergenza Ehm... Ascensore Andiamo su Ah... Ah, sentite come si tracca il collo Cosa è stato? Cosa... Ma che diavolo Cosa è stato? Un colpo di pistola? Deve esserci... Gente sveglia qui Fortunatamente è in un Good way Che significa Ovviamente Chiuso anche per di qua Niente Chiuso Niente Niente Di niente Di niente Di niente Di niente Di niente Di niente N O come si chiama Quella ragazza lì Era protetta dai copyright Quindi abbiamo dovuto Abbiamo preferito toglierla ragazzi Aha Merchandise Merchandise Per i film Niente Di che roba Per i film Qui non c'è niente Cosa diavolo è Sto cosa qui? Niente Aha Di lì Sono tutte quante Macchine automatiche Film Ah ma Cosa te lo sta dicendo? Ah ok Quindi un film Di una storia d'amore Non gli piace The long awaited movie Un film chiamato Cacciò di draghi Ho giocato a questo gioco Prima Oh Si ma non ho mai avuto Una speranza Contro I draghi grandi Quindi vabbè Oh ragazzi Visto che mi fa Aha Ok quindi Messaggi promozionali Ok Qui c'è un cinema Ok no vabbè Quei altri due film Non li controllo Che tanto dicevano robe Che Ah ok Qui non c'è niente Ah ok Vabbè Ecco qui Già che ci sono Ok Ok Rimassi morta Ehi l'ho visto Questo qui Penso che Mi sembrava che fosse Un film di guerra Un po' spaventoso Ma Ma è bello Vedere che è tornato Al teatro Al teatro Immagino che sia Tipo il cinema Puoi sopportare L'orrore Oppure Oppure Non ci riuscirai Nasconditi E osserva Si chiama il film Che sarebbe Odio gli Film horror Anche Anche perché Sono commerciali Ah e spero Che ogni giorno Smettono di fargli Di notte Infatti ogni film horror È fatto di notte Un attimo ragazzi Qua se non ci sono stato Qui c'è la fila Ragazzi La coda Ma dove mi conduce A un cazzo Di niente Yeee Ah Ok quindi Andiamo invece Nel settore B Ok quindi Qui c'è sempre Un altro cinema Lei dice di aver sentito Qualcuno parlare Strainers Penso che sia tipo Ascolta Ascolta Non posso No Aprire la porta Piano Allora Ah perché diceva Che giustamente Siccome Un attimo Che Siccome qua c'è un cinema Le porte erano fatte a posta Per non far sentire Troppo le voci Diciamo Se è copyright Se è copyright ragazze Giuro che sto Perché è qui Perché è qui Ascolta Un attimo Ascoltate Finocchi È il momento Di dare a questa Signorina Il suo dovere R1 Quello che si merda Sì signore Cos'è Cos'avete detto Finocchi Non ho sentito bene Regan Ehi Che sta succedendo Qui Liberatemi ora Stia calma Signorina Stai calma Signorina Non vogliamo Sentirti squittire Mi sono Mi sono spiegato bene Questa signorina Qui deve essere Punita in modo Esemplale Mi sembra Tipo Io Avrei preferito La figura Di un dittatore Tipo Mussolini O Hitler Ma vabbè Hanno voluto evitare Magari è pelato sotto quello Il metto Rispondetemi Recute Come la pugniamo Questa ragazza Ah Squadra lancia fiamme Bella idea Sembra che voi Sappiate fare qualcosa L'esecuzione Avrà luogo In 30 minuti Che nessuno Faccia niente Fino ad adesso E non fate Entrare Nessuno Nessuno Dentro in edificio E se ne trovate Uno riempitilo Di buchi Nooo Qualcuno Mi aiuti Per favore Cosa fate Ancora qui Ragazzi Muovetevi Finocchi Sergente Hartman Oh ma che cazzo Stanno venendo da questa parte Devo nascondermi E Cristina Davina Da che parte Un attimo che penso Prima Dov'è Per l'altra parte Sull'altro cinema No ma Ah no Sta facendo da solo Sta facendo da solo Ok Avanti La presa della Normandia Ma che cazzo Questi Non erano soldati reali O lo erano Gli soldati non farebbero Certe robe Perché hanno catturato Reagan E Perché stanno cercando Di ucciderla Non proprio Non ho capito Un cazzo Cioè che sta succedendo Devo aiutarla La La uccideranno Se io la lascio lì Ok Un attimo che salvo Eh beh Aha Oui Aha Ok Niente di che Niente di che Ok Niente Troviamoci la bella pistola Andiamo a fare un po' di Pensate se diventa Una fps Ok Quindi ragazzi Qua non Cioè è molto difficile Per Cioè Voi il gameplay Un attimo Un attimo Devo chiarire Ve lo state godendo Perché ci avete Io che ogni tanto Farò i tagli Oppure al massimo Che vi faccio ridere Dicendo cazzate Non mi vengono cazzate Ok Che vi faccio ridere Dicendo cazzate Robe varie Cioè C'è la mia voce Che si drammazizza Tutto quanto Però quando devi giocarlo Eh Diventa molto noioso Ed è ancora più difficile Quando devi cercare Di tirare fuori argomenti Quando il gioco è così lento Perché cosa dico Prima sono andato E spiaggia con i crits Ma siccome un bambino Mi è caduto sopra il grest Tipo avevo la gamba sinistra E il braccio sinistra Che non potevo muoverle Per il dolore Quindi Vedete Sto dicendo cazzata Perché non ho niente da dire Ah Niente di che Andiamo avanti Ok Scatole Cardboard Ok Scatole Per delle carte Questa qui è aperta Questa qui è aperta Un cazzo di niente È aperta Ok Un cestino Ah niente Niente Ok andiamo verso Uh no 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 Qua c'è il cinema b ragazzi Andiamo per di qua Così ci riconnettiamo lì Porca troia Mi sgamano Scappa Baldracca Che ci sgamano Ok Eh sì ma vuoi che siano così Minchioni da non accorgersi Merda Sofì Perché sei qui Ah vabbè di sicuro Cioè Eh Sta tranquilla Non ci noteranno Bellissima ragazze Come Vi ho fatto un dialogo A due metri E davanti a voi Ci sono tipo Vegli omini Che guardano dall'altra parte E non vi notano Aspetta che ti lascio Che ti sciolgo le corde Ah Sono troppo strette Resisti Però ho qualcosa Per tagliarle Ehi soldatino Ehi soldatino Sono vinti Sono più stupidi Dei soldati di Assassin's Creed Ragazzi Svelta Taglia queste corde Mi cederanno Sì 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 Fammi cambiare Aspetta un attimo Inventario No vaffanculo Un telefono Che c'è tutto No niente Cosa c'è da questa parte Non cazzo di niente ragazzi Ok Dobbiamo trovare qualcosa Per poter tagliare le corde Bene Come siamo con la registrazione Dai che è andata bene Nain 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 Shizze Ok 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 Quanto siamo 13 minuti Altri 2 minuti è salvo Perché non voglio far troppo C'ho Alcune robe da dover vedere Salva Ok Quanto scommettiamo Che ci fiocci Non avevamo sul colpo Dai Buca gli occhi Madonna mia No dai Devo andare per di qua Di sicuro No 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 Vaffanculo Vaffanculo Chi me lo fa fare Di rischiare la vita Per Regan Forse qui c'è una forbice Ma va va là Ma va là Ma va là Ma va là No cosa ho premuto Cosa ho premuto Via 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 Vaffanculo Cazzo sete Via Abbiamo trovato un taglierino Ma va là proprio Ragazzi Mister L E fiero Che azzecca le robe subito Lì c'è una forbice Infatti che c'è una forbice Ok Item Regan Ho portato un taglierino Posso tagliare la corda ora Veroci Sbrigati Prima che questi zotticoni Si sbrigano Si svegliano fuori Scappare un altro po' Uh La metto con immagine Di copertina Questa Ehm Dalazione Chi sono questi ragazzi Questi tipi Cioè Perché Vengono solo Improvviso E dicono Che vogliono Uccidere una ragazza Che cosa gli ho fatto io Regan Ehm Perché Eri qui Così tardi Di notte Che è tardi C'è la città Che è in apocalisse Perché ho Le leggi dell'ordinario Cioè Di andare a letto Cioè Ok Ehm E come potrei saperlo Io stavo dormendo Nella mia stanza E poi mi sono svegliata Ma Regan No Un attimo Un attimo Un attimo No Regan Non è N Ma N Regan Non è quella Che ci bullizza Cioè Oh per amor di dio Ragazzi Mi dovrò guardare Un po' Dei miei vecchi gameplay Anzi no Scrivetemi Nei commenti Se Regan È la stessa ragazza Della volta scorsa Che è scappata Eppure no Ma non poteva essere Lei Perché l'altra No no È la bulletta Ragazzi Datevi conferma Che sto pensando giusto Stavo dormendo Nella mia stanza Poi mi sono svegliata Devono avermi rapita Lei Sono venuti dentro Alla residenza Di mia madre Cosa? Non so Capendo una sega Ragazzi Un attimo Quindi Con calma Con calma Regan Le cose Ah stanno si vedendo Robe strane In questa città Tutti quanti Sono caduti Tormentati E c'erano Delle strane ombre Soldati Impazziti Leggo Tipo Story Story Dobbiamo Subito andare via Di qui C'è uno dei miei amici Qua fuori Cosa? Scappare? Questa non riuscirà mai Loro stanno Che Non viene il termine italiano Custodendo Facendo la guardia Tutto quanto Ci troveranno Se ci muoviamo Allora Cosa facciamo Regan Ci Noteranno Che te le sei andata via Sì Infatti Loro magari Dopo un'ora Dopo un'ora Sono ancora lì Non si girano Neanche Se Stai seduta qua Loro ti troveranno Stai zitta Non mi dai ordini A me Sofì Perché Non provi tu A scappare Starò qui Aspettare Che mia madre Che mi aiuto Regan Sofì Perché stai fegendo Regan Passano da piccoli Al parco Immagino Mamma e papà Stanno combattendo Ancora Papà Stava Gridando E mamma Stava spengendo Sono così Spaventato Di tornare a casa Ehi Regan Mi mamma e papà Sai Perché sono morti Sì Ah quindi Cosa un attimo I suoi genitori Sono morti Qui il nostro Era un padre adottivo Gli hanno Un tipo Un tipo Gli ha sparati Ben Crober Tipo qua O Tipo simile Quindi Ah quindi non ho più una mamma O soltanto Siamo soltanto io e papà Ah ok Ma io non piango Continuo ad andare avanti Anche se non ho una madre Se io Se io mi detesi a piangere Papà si preoccuperebbe Vero? Quindi tu non dovresti piangere Regan Se tu piangi Sei una bambina Che piangio colonna Vuoi essere una bambina Piangio colonna Regan? No signore No Non voglio essere una bambina Che piangio colonna Allora gioca con me Tua mamma e papà Tua mamma e tuo papà Si calmeranno presto E noi giocheremo Fino all'ora Ok Bambina piangio colonna Cosa? No sto dicendo che tu sei una bambina Piangio colonna Tu ti comporti Così fiera Quando vai a fare la bulletta Con le persone Ma non sai fare niente Da sola Stai dicendo questo Quindi perché tu Sei una bambina In pieno colonna Non so come aiutare l'urlo E lo dirò ancora ancora Tu non Non sei cambiata Per niente Da quando eravamo al parco Sei inutile Senza la tua mammina Ad aiutarti Stai ingrattando in grado Di fare la bulletta Tu mi usi soltanto Per poter Per poter Come dire Come antistress Quando le cose Quando le cose Vanno Quando le cose Non vanno bene a casa Sta zitta Sta zitta Tu hai detto Che io ho bisogno di te Prima di tutto Ah ok Quindi Chi ha detto che io ho bisogno di te Prima di tutto Tu e me Io e te Siamo con persone Comunque Differenti Tu sei solo gelosa Non hai mamma E tuo papà Ti ha abbandonato Tu sei gelosa Perché nessuno Ti salverà Sì però Che noi siamo stonzi Che siamo subito No Non è vero Eh Il mio papà potrebbe Anche essere spazzatura Ma mia mamma Mi voglia bene Lei Ecco me Anche adesso E sono sicuro Che verrà Cercarmi presto E nessuno Verrà a cercare per te Quindi non rompermi la palle Ah Guarda Mi dispiace Ah Per cosa Tutto Ne stai qui Seduto Aspettare Tu madre Fino a che I soldati Non verranno E ti uccideranno Scusami Ma Ma Questa non è la mia idea Di piano Ora Ora me andrò fuori E mi metterò a correre Cosa farai te Va bene Verrò con Ah Ma come Come pensi di uscire A scappare Non lo so Ma è buio fuori Sono sicuro Che c'è un modo Potrei evitare Di essere visti Facciamo qualcosa Faremo qualcosa Ehi cane Comincia Ok Serviamo Ah Ah Siamo in due Ora Bello Mi piace Mi sta prendendo Abbastanza il gioco Ragazzi Tra l'altro Ragazzi Notate Barre della vita Del mana Dell'esperienza Inutili Con tanto di Professione Studentessa Studentessa Robo inutile Ragazzi Solo così Per far bello Diciamo Basta Anche i soldi Inutili Ragazzi Vabbè Quindi ragazzi Più o meno Saremo a 17 minuti 21 minuti Ragazzi Molto più lungo Di quanto Avessi voluto Io Ma non importa Io blocco qua E nel prossimo episodio Penso che ci sarà Veramente un sacco Di gameplay Ragazzi Dove fare Morirò un sacco Di volte Ma Se è tutta azione Dove c'entra la skill E non dobbiamo andare In giro a caso Come la volta scorsa Vedrò di Non tagliare niente E spero E basta E ci si vede Nel prossimo video Ciao a tutti